Sesta corsa in programma, il primo Cozzie, categoria F, allievi, 8 milioni a dotazione complessiva, 4 milioni al cavallo, primo classificato dopo il ritiro di Narcotina, rimasti in gara, Noa Letab, Maestufo, Nilo Bistat, Nitro Cotone, Nona Minore, Mitra Mamò, Norvegese, Niste MN, Rimodrum, Norgec, PG. In ritardo un paio di cavalli, partiti, Mitra Mamò dall'esterno cerca di portarsi in vantaggio e sulla curva insidiato da Nona Minore riesce comunque a passare in vantaggio, Mitra Mamò in seconda posizione è Noa Letab, poi vediamo in terza Nilo Bistat, ancora Nitro Cotone per linee esterne e via via tutti gli altri. Cavalli che sono impegnati lungo l'addirittura di fronte con Mitra Mamò che al comando sembra pattinare con quella azione lunga, prepotente che dà l'impressione proprio di un cavallo che pattini su un terreno pesante. Intanto Mitra Mamò è sempre al comando della corsa nei confronti di Noa Letab, all'esterno della quale si presenta al passaggio davanti alle tribune il numero 5, si tratta di Nitro Cotone che è risalito e che adesso appariglia Noa Letab, mentre Noa Minore viaggia in tandem con Nilo Bistat, ancora Maestoffo che è in pariglia con Limodrum, cavalli che adesso affrontano l'addirittura di fronte, mentre Norgec PG è praticamente squalificato per via di un errore, su Mitra Mamò piomba come un falco, Nitro Cotone lo appariglia, lo attacca con decisione, i due sono tallonati da Noa Letab all'interno della quale cerca di inserirsi Nilo Bistat, mancano ormai 400 metri alla conclusione, cerca di resistere Mitra Mamò agli assalti di Nitro Cotone, mentre Noa Letab si affaccia in terza ruota, ha la corda Nilo Bistat più indietro Nistea MN, addirittura ad arrivo è Nitro Cotone che prende la meglio e cerca di conquistare la vittoria nei confronti di Nilo Bistat, terzo Nistea, quarto dovrebbe essere ancora Mitra Mamò e quinto Noa Letab con vicino Nona Minore.